Riccardo Savona lascia. Dopo le polemiche che lo hanno investito in seguito all'atto di accusa del Presidente della Regione pronunciato durante il Congresso dei Democratici Riformisti e relative ad una intercettazione del 2010, il Presidente della Commissione Regionale Spending Review ha formalizzato stamani le sue dimissioni dal gruppo dei DRS a Lars. Un gesto apprezzato dal capogruppo Picciolo che ringrazia Savona per la disponibilità pur comprendendone il travaglio. Una scelta che taglia verso il basso la presenza nel gruppo assembleare che fa capo al movimento di cui è ispiratore l'ex Ministro Cardinale. Savona potrebbe non essere l'unica vittima sulla via del seguito a Crocetta. Anche l'ex Presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali, Marco Forzese, sfiduciato dalla sua stessa Commissione, sembra essere sacrificabile sull'altare dell'accordo. In fase di ricostituzione della Commissione, infatti, la Presidenza della Prima potrebbe andare ad Antonello Cracolici, che sarebbe così risarcito dall'aver perso alla Presidenza proprio della Commissione Spending Review a favore di Savona. DRS e 5 Stelle nella ridistribuzione perdono un componente ciascuno e in quota democratici riformisti andrà picciolo con tanti saluti proprio a Forzese. I nuovi entrati sono Paolo Rugirello per articolo 4 e Michele Cimino del gruppo misto. Di fatto la maggioranza guadagna un componente in Commissione Affari Istituzionali. Confermati tutti gli altri, per ricostituirla si aspettano soltanto le indicazioni del PD che ancora non si è pronunciato. Acque agitate dunque in maggioranza, ma anche nell'opposizione dove il PDL ha rinviato alla prossima settimana le proprie decisioni sull'adesione o meno alla mozione di sfiducia targata a 5 Stelle con supporto dei tre deputati della lista musumece di un PDLino, Marco Falcone. Molto dipenderà da cosa crocetta dirà venerdì sulla crisi di governo riferendo in aula. Fibrillazioni dunque in maggioranza e in opposizione, semicongelate in attesa proprio del dibattito di venerdì.